Attendibili a livello nazionale, ma approssimativi, è quello regionale. Il commento del direttore dell'Agenzia Turismo FWG è di sommariva ai dati di Federalberghi sull'andamento della stagione turistica. Sommariva rilancia o sostenendo che invece le bimestre in Nefru di Venezia Giulia non è andato benissimo, ma meno peggio di quanto ci si aspettava e di quanto riporta la federazione. Siamo in possesso di dati su tutto l'universo degli 800 alberghi della regione, ha commentato e che abbiamo anticipato c'è stato un caldo del 5,3% di italiani e un aumento del 4,4% degli stranieri, coerenti con i dati nazionali di Federalberghi che parla di un meno 6% di italiani e di un più 1,1% di stranieri. Sommariva spiega le discrepanze se il dato dell'indagine a livello nazionale è calcolato su un campione di un migliaio di alberghi ed è attendibile a livello regionale è calcolato solo su 10-15 strutture e non è rappresentativo. Comunque Nefru di Venezia Giulia si chiuderà l'anno con circa meno 1,5% delle presenze che considerando l'anno di crisi su dati buoni del 2011 non è preoccupante. Si spera in un settembre di riqualificazione e soprattutto si punta a una sempre più diversificata offerta turistica.